Il mondo era un bidone da far rotolare, sì sì perché la bellezza dei vent'anni è poter non dare retta a chi pretende di spiegarti l'avvenire, poi lavoro, poi l'amore. Sì ma qui che lavoro non ce n'è, che l'amore si fa in tre, l'avvenire è un buco nero in fondo altra, sì allora ma che gioventù che è, ma che primavera è, la tristezza li ha due impasti, la carezza ride lei. Grazie.